no è già mattina bene perché oggi mi verranno a trovare le mie amiche perché oggi è appunto è Halloween e quindi speriamo di vivere, di avere una di essere conoscente, questo era un bel anno insomma mamma è pronta la colazione? si aspetta però puoi vedere su se vuoi ok qui c'è il tè, i biscotti, dei pasticcini e una fetta di torta, ti vanno bene? certo si vanno bene grazie, oggi devi andare a scuola e perché cioè oggi dovete fare la festa di Halloween a scuola e poi tornare a casa e verranno le tue amiche, si lo so, speriamo che vada tutto bene oggi si racconta che che nella notte di Halloween solitamente vengono i mostri killer ma io non ci credo infatti proprio non ci devi proprio credere perché sono tutte sciocchezze, io vado di là bene, ora io vado a scuola, oggi non tocca portarlo perché c'è la festa però io non mi maschero oh va bene, allora buona scuola, ti apro la porta ciao tesoro, ciao bene eccomi, finalmente non sono in ritardo scusatemi eccomi, oh scusami ciao la solita proprio ah ciao la terby ciao oggi c'è, cioè è la festa di Halloween quindi facciamo lezione non sei contentissima si, certo sono molto contenta mi sono, facciamo lezione ci sarà la festa di Halloween, comunque oggi sei pronta per venire a casa mia si, è pronta anche Diamond Diamond si, oggi vediamo tutta andiamo a casa sua see you già ciao 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 ciao